Ciao buonasera dimmi! Oggi è sabato con 25.000 euro che cosa mi dai? Con 25.000 euro che cosa ti do? Solo questi c'hai? C'hai solo 25.000 euro? E va bene ti fidi di me? E certo che mi fido patrì! Allora te ne faccio andare a casa super soddisfatto mo ci penso io! Per prima cosa ci mettiamo il nuovo ingrediente che mi è appena arrivato, la lampadina, poi ci mettiamo un gattino, ecco qua, una spruzzata di parmigiano che pure questo è un ingrediente segreto, un poco di zucca e ti direi pure una sedia così se dopo che te lo mangi stai stanco ti siedi! A posto? Va bene per 25.000 euro? E con solo 70 euro in più ti regalo pure una postazione da gaming! Va bene?